benvenuti amici youtube qui ocram1993 e oggi sono qui con mio amico michael ciao a tutti che ha partecipato al reggio di sanremo ed è si è piazzato al sesto posto quindi un'ottima top per lui e partiamo subito con la profile e vediamo un po cosa ha giocato allora partiamo dal main 3 shadowy e 3 bubbleman per lo scompartimento hero trading goldfish un goblinberg come mai goblinberg perché ha da fila di rosa e quindi una copia mi fa piacere tenerla ok il doppio monaco evocatore e i due max come mai max c nero max c perché oltre alla mia sfortuna che mi perseguita si la reputo una carta forte anche e poi al momento che ci danno peso la possiamo scartare proprio per il suo effetto ok poi andiamo alle spell 3 instant 3 hero life ok 3 emergency 3 must change tutto stable ma poi la 2 come vai questa perché molte volte mi aiuta mi aiuta a sbriccare mani contro mostri e poi è molto utile contro paiozoi che in and la tiro sul team goldfish e li calo l'acido e così gli levo tutte le set che aveva ok monorota non ora i giochi monobuco più doppio calcio e doppio twin ok andiamo alle trappole monowarning telecounter doppio strike sono risultati utili di strike si abbastanza a volte dei sintati però comunque si dai sono stati comunque fortissimi ok blue fruit gate per la plesia e un tracheolus molto molto utile un reggio di kiss arciabile quindi mi piace ok andiamo con l'extra doppio dark low si mono hanky mono acidus mono nord monora plesia mono dweller triplo m s din tripla spada e tripla system down con gli abc ok c'è qualche modifica che vuoi fare come si è trovato tutto bene mi sono trovato bene forse un po le ghost dog poco usate però comunque ci sono e aiutano ok ti ringrazio spero che questo video vi sia piaciuto se avete suggerimenti commentate pure qui sotto lasciate un like iscrivete al canale un saluto da okram e e alla prossima